Grazie a chi è qua, mi metto la sveglietta sul telefonino, 19 minuti, così sapete di che morte dovete morire. Grazie a già del folle, però la storia la cambiano i folli, non la cambiano quelli che ragionano in maniera lineare. Portare mille persone il sabato pomeriggio a parlare di euro e di moneta a Milano è una cosa da folli, quindi il primo applauso è per voi e per quelli che ci stanno sentendo da casa perché non siete normali, però non ci piace essere normali. Un ringraziamento anche alla ragazza che ci dà una mano con la lingua dei segni per permettere anche a chi segue via web e via streaming questa iniziativa e da qua parto. Oggi parte la battaglia per le diversità, lascio i temi economici al professore, ormai solo i cretini o quelli in mala fede possono sostenere che l'euro vada bene così com'è, non so se quelli che avete visto prima siano cretini o in mala fede, però lascio a voi la scelta. Il taxista, il benzinaio, l'edicolante, la partita IVA, il cassi integrato, l'esodato, chiunque si è reso conto che rispetto a 12 anni fa le promesse fatte non sono state mantenute e abbiamo perso diritti, abbiamo perso stipendio, abbiamo perso pensione, abbiamo perso aziende, quindi però dirlo è un atto rivoluzionario. Dire quello che pare ovvio, diceva Orwell, che nel momento dell'inganno universale dire la verità è un atto rivoluzionario. Io oggi prima di venire qua ho guardato i telegiornali e devo dire che mi sono vergognato da giornalista della stragrande maggioranza dei giornalisti italiani, nel senso che Goebbels avrebbe avuto da imparare da questo ministero della propaganda che ci vende quello che è un governo sola, un governo bufala, un governo carnevalesco, come qualcosa... Ci sono le donne, ha trovato delle donne e fra le donne ce n'è una incinta, state tranquilli, tranquilli, nel governo di Renzi c'è una donna incinta, quindi i problemi dell'Italia sono risolti, fa niente se poi la donna incinta è amica dell'amica 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 e non è la donna incinta dei quartieri popolari di Milano, di Torino, di Roma o di Padova, ma è la donna incinta dei quartieri chic che non ha i problemi delle donne incinte normali, diciamocela tutta, e non penso sappia quanto costa il latte in polvere e non penso sappia quanto costino i pannolini, però per dire che stanno creando un mostro, dal mio punto di vista, io sono andato ad ascoltarlo, sono peggio di Monti e di Letta, perché almeno quelli erano antipatici, lo vedevi, questo è... ne hanno scelto, secondo me hanno fatto un casting, io me li vedo di notte a Berlino, a Bruxelles o a Washington, chi troviamo per fotterli stavolta? Abbiamo provato con quello della Bocconi, non è durato tanto, abbiamo provato con un altro, brava persona, modesto, parla bene, non è durato tanto, ci vuole qualcuno che sembri nuovo, qualcuno che è l'altra faccia della medaglia di Grillo, perché poi alla fin fine il consenso lo portano tutti alla stessa fonte, lo portano tutti dalla stessa parte, e hanno trovato questo qua a Firenze, che la prima cosa che mi ha detto quando sono entrato in ufficio da lui è, Salvini, io e lei sull'euro la pensiamo in maniera esattamente opposta, io ho tirato un sospiro di sollievo perché ho detto, mi sarei preoccupato se avesse detto il contrario. Politicamente viviamo un momento preoccupante, e qua la smetto col sorriso perché sono veramente fortemente preoccupato, c'è puzza di regime, cerco di non usare le parole avanvera ma c'è puzza di regime, c'è puzza di fregatura, vogliono finire la partita, ne hanno scelto uno simpatico che parla in Toscano perché devono finire il compito, che ministro dell'economia hanno scelto? Il peggio del peggio del peggio è stato scelto con l'avallo di Berlino, di Bruxelles, costui ha lavorato per la Banca Mondiale, per il Fondo Monetario Internazionale, per la Commissione Europea, per il Fondo Monetario Internazionale si occupava della Grecia, toccatevi perché... però è lì e le parole che arriveranno nei prossimi giorni ci scommetto due euro, anzi duemila lire, privatizzazioni e liberalizzazioni fanno rima con fregatura, sono pronti a svendere gli ultimi pezzi di aziende sane rimaste in Italia, Eni, Enel, Finmeccanica, tutto quello che è ancora un prezzo sono pronti a regalarlo, perché è arrivato Renzi? Perché deve finire con i saldi? E io sono preoccupato, sono preoccupato perché ci siamo noi a dire certe cose. 1633. Che il sole sia centro del mondo e non si muova è preposizione assurda, falsa ed eretica, contraria alle sacre scritture. Che la terra non sia al centro del mondo e che addirittura si muova è preposizione assurda e falsa. Per questo ti condanniamo al carcere e per penitenza per tre anni tu una volta alla settimana dovrai recitare sette salmi penitenziali. Chi era il pericoloso sovversivo che osava sostenere che il sole era fermo ed era la terra che girava? Era Galileo Galilei che infatti il 22 giugno del 1633 disperato disse io abiuro, maledico e detesto i miei errori e le mie eresie. Così non mi rompono più le palle, questo lo aggiungo io. Dopo 180 anni, nel 1822, la chiesa riconosce che il sole è fermo e la terra gira. Dopo 359 anni dalla condanna dell'eretico Galileo, nel 1992, la chiesa riabilita Galileo Galilei. Ora costui, osservando, con il suo dialogo sui massimi sistemi del mondo, non aveva gli strumenti di misurazione nostra, osservando nel 1633, disse ma secondo me, anche se tutti dicono il contrario e guai a chi osa dire il contrario, a occhio, guardando le maree, guardando intorno, il sole è fermo e la terra gli gira intorno. No, se ci fosse stato porta a porta e fosse andato a porta a porta col plastico, gliel'avrebbero smontato perché non è possibile. È una preposizione assurda, falsa ed eretica. Devi abiurare, devi recitare per tre anni i sette salmi penitenziali, quindi che qua dentro per i prossimi tre anni deve dire l'euro fa bene, l'euro fa bene, l'euro fa bene, l'euro fa bene, almeno sette volte al giorno, perché altrimenti finivi sul rogo. Dopo 359 anni hanno riconosciuto che il sole è fermo e la terra gira. L'euro è una cagata, l'euro è uno strumento di morte, l'euro ha massacrato, l'euro ha annientato decenni di sacrifici dei nostri padri e dei nostri genitori. L'euro soprattutto, il furto più grave è il furto di speranza, è il furto di futuro, è il furto di dignità. La cosa più grave è togliere la speranza ai ragazzi. È gravissimo chiudere la Invernizzi, la Electrolux, i 159 imprenditori suicidi, ce li hanno sulla coscienza anche quei balordi lì che ci hanno infilato in un tunnel da cui però è questa la consapevolezza che ciascuno di voi deve avere. Si può uscire, non c'è niente di irreversibile. Io spero che ci metteremo meno anni rispetto ai 359 di Galileo, rispetto ad essere riabilitati anche qua, anche perché secondo me abbiamo, non so se abbiamo 359 giorni per salvare quello che rimane della nostra economia e del nostro futuro. Però quello che mi preoccupa, i temi economici li lascio a Claudio Borghi che ringrazio perché si è messo a disposizione anima e corpo di un movimento, di una comunità di sognatori e di matti come la Lega Nord, non so chi gliel'ha fatto fare però lo ringrazio perché non gliel'ha ordinato il dottore e il libricino l'ha fatto gratis e quindi qua siccome ti chiedono fattura, noi siamo contro le fatture a prescindere però ti chiedono fattura per qualunque cosa accade al mondo, il libricino l'ha fatto gratis e se non l'avesse fatto gratis ci siamo trovati con dei contanti in nero all'autogrill di Fiorenzuola pur di dare un dispiacere allo Stato italiano evidentemente, però detto questo siamo soli, siamo soli contro tutti, siamo soli contro l'informazione, neanche la propaganda fascista riusciva a far propinare e a far digerire agli italiani quello che stanno provando a fare questi, il Corriere della Sera, Repubblica, il Sole 24 Ore, la Rai, Mediaset, sono tutti dalla stessa europarte, sono tutti eurotruffatori alla stessa maniera, non abbiamo niente da aspettarci da queste persone, dobbiamo essere noi il megafono di noi stessi, però abbiamo un vantaggio rispetto a tutte queste persone che hanno soldi, hanno televisioni, hanno giornali, hanno lo spread, hanno le agenzie, ieri mi chiama un giornalista e ma lo spread, ma pensate come pensate veramente, lo spread ha accettato positivamente il governo Renzi, chi è lo spread? Dove abita? Che lavoro fa lo spread? dove si sono, ma si inventano, e adesso se usciamo di qua, io sono convinto che se andiamo in corso Vittorio Emanuele, fra la gente che fa shopping, che voi avete il dovere però di fermare uno per uno, come i testimoni, dobbiamo essere testimoni di Geova, uno per uno, fermarli, con il libricino, noi glielo diamo gratis, abbiamo questo vantaggio, dobbiamo far pensare la gente, perché la gente che dice fuori, veramente dopo il lavaggio del cervello, pensa che il suo problema sia lo spread, siano le agenzie di rating, sia lo 0-1, ma un premier che dice è vero, per la stabilità fiscale stiamo massacrando il mercato interno, tradotto stiamo distruggendo negozi, commercio, artigianato, turismo, per la stabilità. Qualcuno mangia pane e stabilità stasera, è un progetto, il deserto economico, ma soprattutto quello che mi preoccupa è il deserto delle idee, dietro la moneta unica c'è il pensiero unico, c'è il vestito unico, c'è la musica unica, i libri, ti dico io che libri leggere, i programmi televisivi ti dico io che i programmi televisivi guardare, le scarpe, la scuola, la famiglia, basta con sta mamma e con sto papà, che palle, non è moderno, basta, l'Europa ha un altro modello di famiglia, il genitore è uno, due, e poi se c'è anche il tre, il quattro, il cinque, il sei è più bello, e se qualcuno osa fare delle pubblicità tipo mulino bianco, boom, Barilla ma come ti permetti di fare la pubblicità con la mamma e il papà felici, ci vogliono due mamme incazzate, è questo, la moneta unica serve a imporre un pensiero unico, serve a fare un'enorme marmellata, noi non siamo marmellata, noi non siamo marmellata, e per assurdo è la Lega Nord, per assurdo è la Lega Nord per l'indipendenza della Padagna che proverà a salvare tutte le diversità che ci sono in Italia, tutte le identità, tutte le lingue, tutte le culture, tutti i cibi, dobbiamo difendere con le unghie e con i denti le diversità, senza essere superiori o inferiore a nessuno, dalla Valcamonica al Salento, vogliono omogeneizzarci con lo stesso gusto, in sapore, in colore e in odore, a me piacciono i sapori, i colori e gli odori, vogliono marmellatizzarci, senza anima, senza anima e senza il tempo di pensare, quello che ci vogliono rubare è il tempo, perché se tu non sai come arrivare a fine mese, non sai se ce la fai a pagare il mutuo, devi decidere se suicidarti o no e devi capire come riuscire a mandare tuo figlio a scuola e passi 22 ore al giorno a capire che futuro dare a tua moglie o a tuo marito, alla sera a casa non hai tempo, non hai tempo per pensare, non hai tempo per fare politica, perché secondo me Grillo è pericoloso? Perché chi dice la politica è tutta una schifezza, senza la politica ci sono le dittature, senza i comuni, senza le province, senza le regioni, c'è il pensiero unico, non siamo tutti uguali, ci sono politici bravi e politici ladri, ci sono gli idraulici che fanno fattura e gli idraulici che non fanno fattura, lascio a voi decidere chi fa bene o chi fa male nei confronti di uno Stato che era pieno al 62% del prodotto di chiunque sia artigiano, il pensiero, dobbiamo avere il tempo la voglia e l'orgoglio di pensare, io vi chiedo questo, nei 90 giorni che mancano alle elezioni europee, da stasera, siete Galileo Galilei, fuori di qua, avete però il vantaggio, abbiamo il vantaggio di dire la verità, perché pensate che casino Renzi, che sa che sta pigliando per il culo gli italiani ma deve far finta di fare il loro interesse, pensate come si deve risintonizzare 18 volte al giorno per non ridere di fronte al governo che ha messo in piedi, quando la Merkel lo chiama 6 volte al giorno a chiedergli hai fatto quello che devi fare, no no Angela faccio veloce, faccio veloce scusa, non ho ancora fatto in tempo, pensate che vita, che brutta vita questo tizio che cammina sulle acque e guarisce gli ammalati, però è una brutta vita, noi abbiamo il vantaggio di avere ragione, però siamo eretici, la terra è ferma ed è il sole che gira intorno alla terra, l'euro non si discute, hai chiuso? Fa niente, sei uno sfigato, tu non hai voglia di lavorare, non è colpa dell'euro perché l'euro va bene, non si tocca, non siamo soli, ci sono i francesi, ci sono gli austriaci, ci sono gli olandesi, ci sono gli svedesi, ci sono i finlandesi e la prossima volta se ci rimandate a Bruxelles gli facciamo un mazzo così che al confronto le contestazioni dell'ultima volta saranno all'acqua di rose, non so come si traduca in lingua dei segni, un mazzo così però penso che possa essere comprensibile ai più, l'Europa ha niente alle diversità e oggi sono le diversità economiche, ma domani sono le disabilità, perché il disabile non produce, produce di meno. Io sono terrorizzato quando mi confronto con degli esponenti di sinistra, l'ultimo dei quali settimana scorsa tal Scalfarotto, che mi diceva che mi parlava solo di mercato e di consumatori. Salvini non puoi discutere l'euro perché l'Europa è un mercato di 400 milioni di consumatori, detto da sinistra. Io non sono un consumatore, ma sono un essere umano e non me ne fotte niente del mercato, perché se il mercato ammazza la mia economia, la mia agricoltura, la mia pesca, il mio artigianato, se il mercato dice che il non vedente non mi serve, sta a casa, forse gli do 200 euro al mese, anzi fra un po' magari tagliamo anche un po' le pensioni di accompagnamento, gli assegni di accompagnamento, perché questi 268 euro al mese sono un po' troppi, perché il disabile non produce per il mercato, e poi se devo scegliere magari il disabile polacco mi costa meno rispetto al disabile italiano. Ci arriviamo, la gente che ragiona e lavora solo nell'ottica del profitto del denaro e del mercato, è gente pericolosa, è gente che vende sua madre per 10 euro in più. Noi dobbiamo difendere il nostro modo di lavorare, di vivere, di essere diversi, nella fortuna e nella sfortuna, senza negare tutti i problemi dell'Italia, attenzione, non è che facciamo la battaglia basta euro e poi l'Italia va bene così com'è, in Italia c'è la mafia, c'è la camorra, c'è l'andrangheta, ci sono centinaia di migliaia di forestali falsi, falsi invalidi, truffe alle assicurazioni, spreco della pubblica amministrazione, il triplo dei dipendenti pubblici nei comuni del sud rispetto ai comuni del nord, il triplo di evasione fiscale nei comuni del sud rispetto ai comuni del nord, tutto vero, però ci sta crollando il tetto sopra la testa, quindi prima devo puntellare il tetto, scuillato, 19 minuti, quindi devo andare a concludere, prima devo puntellare il tetto sulla testa, il tetto si chiama, veramente, io penso che neanche Hitler e Stalin a pranzo insieme sarebbero riusciti a inventare un meccanismo così diabolicamente, genialmente strutturato come l'Europa della pace, dei popoli, del mercato, dei diritti, ci stanno rubando uno per uno tutti i diritti, lo sentivo dal lavoratore della Invernizzi, ci stanno portando al ribasso, 100 euro in meno se vuoi lavorare, se no vanno in Polonia, 6 euro all'ora se vuoi lavorare in una cooperativa, se no ne trovo 20 che ne prendono 5 di euro all'ora e poi togliamo un po' di assistenza ospedaliera, poi abbassiamo ancora un po' le pensioni, poi perché andare in pensione 70 anni, insomma, 80, 85, il mercato ha bisogno di giovanotti di 85 anni che continuino a lavorare occupando posti di lavoro per quei 25 anni che poi aspettano i 60 per cominciare a lavorare, è un progetto di omogeneizzazione, l'Italia e il Nord in particolare devono diventare solo un supermercato dove voi siete liberi di decidere che tipo di yogurt comprare, che tipo di scarpe da tennis comprare, non prodotte in Italia, l'importante è che non siano prodotte in Italia, ovunque ma non in Italia, così non c'è lavoro, non c'è futuro, non c'è dignità, non c'è speranza, ce ne siamo accorti per tempo, nel libricino datelo, non datelo ai leghisti, vi chiedo solo questo, non mettete in mano questi strumenti di verità e di controinformazione a chi ha già capito, datelo in mano a chi magari in buona fede sono decine di milioni di persone, ma non si può, il Tg1 mi dice che non si può, il Tg1 dice che se esco dall'euro mi rubano la macchina e quindi non esco dall'euro, il Tg1 dice che mi portano via la casa in montagna che mi hanno comprato i genitori, il Tg1 dice che far benzina costerà 37 euro al litro, quindi magari avete ragione, però non si può, perché il Corriere dice che il governo Renzi è una figata, perché il sole 24 ore era quello che titolava fate presto quando ha aperto la strada a Monti, è già uno che titola fate presto e poi arriva a Monti dovrebbe chiudere la testata e scapparsene per la vergogna, perché non c'è altro da dire. Chiudo con l'invito a essere una comunità che resiste, abbiamo un vantaggio rispetto agli altri, abbiamo capito, mille persone qua dentro e 10.000 alla radio e 10.000 collegate via internet e tutte le altre che incontreremo nelle tappe dopo questa a Torino, a Genova, a Reggio Emilia, a Padova, a Bergamo, a Udine, a Roma, dobbiamo essere moltiplicatori, dobbiamo essere tanti Tg1 che parlano di quello che c'è scritto nel libretto sull'autobus, imposta dal panettiere, dobbiamo contagiare, il 25 maggio non ci sono elezioni, il 25 maggio c'è un referendum o si vive o si muore, non c'è la via di mezzo, il 25 maggio non c'è il simbolo della Lega sulla scheda elettorale. Il 25 maggio o l'Europa va avanti così e andiamo a morire nel mercato dei consumatori e degli yogurt scaduti, oppure riprendiamo orgoglio, sorriso, speranza, futuro, forza, lavoro. È un referendum. Tutti gli altri partiti la pensano in una maniera sull'euro. C'è un movimento di matti, di folli, di sognatori, di rompipalle, hanno provato a farci fuori, non ci sono riusciti, siamo qua, siamo più vivi e forti di prima. Diamoci una mano. Io non abiuro, il rischio è il rogo. Se io penso di aver ragione, ho ragione io, vado sul rogo. Non striscio, non sopravvivo, non tiro a campare, non abiuro. E quindi se ci diamo una mano, se ci date una mano, ci prenderemo delle grandi soddisfazioni. La più grande soddisfazione è quando avremo vinto perché l'enorme bugia, questa bugia nazi comunista dell'euro, delle banche, del mercato, della finanza, dello spread e non si tocca e se lo dite siete xenofobi, euroscettici, brutti, cattivi e puzzolenti e non vi lavate i denti. Abbiamo ragione, abbiamo ragione. La più grande soddisfazione sarà appunto andare al Tg1, siccome quando vinceremo perché abbia ragione, al Tg1 in 12 ore gli eretici saranno gli altri. E quindi ad abbiurare, noi l'abbiamo sempre detto, noi al Corriere della Sera abbiamo sempre sostenuto che fosse la terra a girare intorno al sole perché era evidente che era la terra. Noi sempre abbiamo detto che l'euro era una cazzata, sì abbiamo fatto 618 articoli di fondo dicendo il contrario, però per distrarre un po', per calmare le acque, siamo in battaglia. Comincia con oggi per quanto mi riguarda la lunga marcia di Mao che da una disfatta totale trasformò in sconfitta per gli altri quella che diventò la sua vittoria perché invece di arretrare, di arretrare, di arretrare, decise, sai cosa c'è? Siamo rimasti in 50.000, se andiamo avanti ad arretrare domani saremo 40.000, 30.000, 20.000, siamo finiti. Invece di andare a sud, andiamo a nord, andiamo verso il nemico, invece di arretrare, giochiamocela, siamo in 50.000, non siamo in 5, abbiamo ragione, sono andati verso il Giappone e gli hanno fatto un mazzo così. Ed è cominciato quello che è cominciato, al di là delle ideologie non mi interessa, però la storia insegna che quando arretri per difendere il poco che ti è rimasto sei finito. Quando ti è rimasto poco ma hai le palle, hai voglia di lavorare, hai coraggio, devi andare all'attacco, non devi scappare verso sud, devi correre verso nord e riprenderti il tuo futuro. Quindi se stiamo insieme ci toglieremo delle belle soddisfazioni. Io vi saluto, vi ringrazio, portate via tutto il materiale che c'è qua e datelo anche nei posti più impensati, su Facebook mi scrive la gente più impensata, più lontana dalla Lega, la soddisfazione più grande è quando mi scrivono sono preoccupato perché mai nella vita avrei pensato di dare ragione a un leghista, però... e sono le cose più belle, perché in Italia abbiamo le tifoserie destra, sinistra, Milan, Inter, puoi dire le cose giuste ma se hai l'etichetta sbagliata invece stiamo sfondando questo muro. Quindi al di là della Lega è una battaglia di civiltà, di onestà, di verità, di lavoro, di speranza, quindi la cosa più bella è che andate nei posti più impensabili, magari non nel corteo Notav che sta passando di qua perché secondo me non c'è un dibattito politico-economico sufficiente ancora sviluppato in quel contesto, però andate ovunque per portare questa voce di verità e per quanto riguarda Renzi, il primo giornalista mi ha chiesto ma chi le fa venire in mente? Io quest'estate mi sono riletto e chiudo la fattoria degli animali e c'era il capo dei rivoluzionari che poi una volta vinta la rivoluzione un quarto d'ora dopo si è trasformato nel capo degli anti-rivoluzionari e dei massacratori degli ex rivoluzionari, mi ha tanto quell'idea lì lancia in resta e poi una volta arrivato a un minimo di potere, era un maiale e si chiamava Napoleon, quindi non voglio con questo mancar di rispetto a nessuno, ci mancherebbe altro, però a passare da rivoluzionari a contro-rivoluzionari in un quarto d'ora la storia insegna nel nome del potere e ci vuole poco. Grazie, viva la Lega e la vinciamo!